Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926 per prima cosa iscriviti al canale, è gratis, scusate i rumori di sottofondo ma non sono a casa mia però questo video doveva uscire perché si deve parlare Bologna-Napoli, 0-0 il giorno dopo tranquilli mi sono calmato, quindi non ci sarà mai a stemmo, non ci sarà ci provo a non bestemmiare, ve lo giuro, ci provo allora, il giorno dopo il giorno dopo, ci sono due tipi di tifosi, quelli del giorno dopo quelli che sono con Garzia, dobbiamo punire Osimen dobbiamo punire Kvara perché Kvara ha alzato la testa dopo Genova e ora tutti alzeranno la testa contro Garzia e poi ci sono la maggioranza, meno male meno male che c'è la maggioranza, che dice ma questi ci hanno fatto vincere uno scudetto l'anno scorso Osimen, Kvara, Simeone e via discorrendo tutti quegli altri giocatori che sono stati importantissimi per portare questo scudetto dopo 33 anni a Napoli mo, noi che siamo la maggioranza perché c'è una piccola minoranza, caro Rudy Garzia che tu dici in conferenza a stampa è una piccola minoranza che chiede le mie dimissioni no caro Rudy, no caro Rudy, è la maggioranza che chiede le tue dimissioni e ti spiego pure il perché chiediamo le tue dimissioni ieri ennesimo stravolgimento sui cambi fino a lì avevi fatto bene ma dopo che hai fatto i cambi non si è capito più niente Osimen ti dice dobbiamo giocare con due punte se vogliamo segnare non ha senso togliere una punta per mettere un'altra punta togli un centrocampista passi il centrocampo a due invece di mettere Politano metti Lindstrom visto che l'abbiamo pagato quasi 30 milioni Lindstrom e io personalmente l'ho pagato più di 30 fanta milioni lo vorrei vedere in campo questo giocatore e anche Sky Sport gli è venuta incontro dicendo guardate che in Napoli doveva mettere Lindstrom perché Raspadori non può giocare in quel ruolo Raspadori o entra a destra, a sinistra, attaccante non sa nemmeno Raspadori il ruolo che ha Raspadori in questo momento e ci hanno ragione Raspadori che ruolo ha in questo Napoli che ruolo ha Raspadori in questo Napoli ennesima dimostrazione che non ne capisce nulla la gestione Nathan gestione Nathan che è stata scandalosa perché Nathan a questo punto poteva già essere titolare contro la Lazio ti ha dimostrato ampiamente pur non giocando con Rachmani che per te sarebbe il giocatore ideale da mettere in difesa a fianco a Juan Jesus che con Osticard hanno fatto una coppia di centrali tanta roba ieri il primo tiro del Bologna è stato al 78esimo col Zilce se non sbaglio quindi caro Rudy Garcia quando noi ti diciamo che stai sbagliando tutto poi sei francese se c'hai questa puzza sotto al naso perché nessuno ti può criticare e anche qui dovresti migliorare caro mio perché vedere giocatori come Kvala e Oseman uscire dal campo a testa bassa è brutto soprattutto per noi tifosi che questi giocatori questi giocatori noi li difenderemo fino alla fine è questo che tu non riesci a capire che noi questi giocatori li difenderemo anche quando andranno in altre squadre continueremo a tifare loro come è stato per quali ducco li palì va bene quindi caro Rudy Garcia fatti anche tu un esame di coscienza e dici ma dove sto sbagliando forse le parti erano un po' troppo lunghi invece no perché le parti hanno giocato bene in questa partita il Napoli ha fatto vedere anche qualcosina di interessante soprattutto nel primo tempo le parti stretti tutti vicini ma se poi in conferenza stampa te lo dice anche Di Lorenzo non siamo abituati a giocare così indietro rispetto alla passata stagione la passata stagione il balicentro del Napoli era molto più alto e riuscivamo ad andare in rete più facilmente perché c'era tutto il collettivo che aiutava qui si vede un Napoli diviso Waju fra centrocampo e difesa fra centrocampo e attacco sono divisi Waju non è la stessa squadra dell'anno scorso Kim abbiamo cambiato il solo Kim io posso capire se tu dicevi ho cambiato 3-4 elementi ho venduto Angissa ho venduto Lobotka ho venduto Simen quindi è giusto fare qualcosa di nuovo ma tu non hai venduto nessuno di questi top perché io Zerischi lo reputo un top Lobotka idem o Simen più che Mike vale uguale hai venduto solo Kim hai trovato questo Nathan Nathan ieri ha fatto bene a Braga in quei 6 minuti ha fatto benissimo quindi caro Rudy Garcia hai la gestione dell'organico che è scandalosa se i giocatori si stanno rivoltando contro di te un motivo ci sarà e quando tu vai in conferenza stampa e dici i napoletani non chiederanno le mie dimissioni è lì che ti sbagli è lì che pecchi di presunzione tu e Aurelio De Laurentiis io ve l'ho detto anche ieri sera la colpa è anche del presidente Aurelio De Laurentiis ragazzi le dimissioni di Garcia non avverranno mai ce lo porteremo fino a fine anno Garcia per il semplice fatto che Aurelio De Laurentiis non pagherà mai due allenatori nello stesso arco di tempo Spalletti ancora un altro anno con il Napoli e penso che glielo debba dare perché la nazionale non è un club la nazionale è una cosa a parte non fa concorrenza alle squadre di club se tu vai a esonerare anche Rudy Garcia devi pagare altri due anni di contratto questo è il prossimo quindi non ci saranno mai le dimissioni o il licenziamento da parte di Aurelio De Laurentiis quindi caro Rudy per un quieto vivere che credimi questa è la miglior partenza del Napoli negli ultimi dieci anni fece solo o peggio Sarri va bene nel primo Napoli di Sarri ma poi abbiamo visto Sarri cosa ha combinato a Napoli ma tu non ci arriverai mai a capire questa cosa Sarri si era focalizzato su 4231 poi cambiò modulo 4233 e lì sbocciò l'era sarriana il sarrismo sbocciò il vero sarrismo non quello portato al Chelsea alla Juventus e alla Lazio quindi caro Rudy Garcia da retta anche ai giocatori parlaci con i giocatori fai qualcosa perché noi tifosi napoletani sinceramente ci siamo già rotti i coglioni di questa situazione e non mi venite a dire eh Osimè deve stare in panchina ma io come faccio a dire avvicino a Victor Osimè capocannoniere della prossima stagione Kvara Kvara miglior giocatore emergente della UEFA Champions League miglior talento della Serie A di stare zitti e non andare contro all'allenatore come faccio io da tifoso da innamorato del Napoli a dire questa cosa contro i miei eroi sì perché voglio questi sono i nostri eroi non mi venite a dire no ma no di qua dobbiamo fare non dobbiamo fare niente voglio non dobbiamo fare niente questa squadra qui rimarrà in eterno e come già detto ieri tu c'avevi una macchina perfetta fra le mani sei andato a cambiare tutto tutto hai cambiato tutto quello che potevi cambiare il Napoli non è una squadra che attende e poi riparte in velocità perché i giocatori ciucci che c'avevi alla Roma Gervigno e via discorrendo non ce l'hai a Napoli Kvara non è un velocista c'è Osimè ma Osimè va servito per bene Osimè non con i lanci lunghi 90-60 minuti a lanci lunghi perché in quel modo te la prendono sempre sempre basta raddoppiarlo se hai visto con Kvara quando è raddoppiato Waiu succede questo Lindstrom Waiu continua a ribadire questa cosa dell'Indstrom quando lo vedremo fra 5 partite fra 10 partite perché non sa l'italiano troviamo anche ancora quest'altra scusa ragazzi lui si sta aggrappando agli specchi ed è ridicolo che i napoletani una piccola parte continuino a difendere l'operato di questo pseudo allenatore perché per me uno pseudo allenatore non è l'allenatore del mio Napoli Waiu e a me mi dispiace e io l'ho detto guardate forse Garcia è stato scelto perché ci ha visto qualcosa avrete dell'Aurentis ma cosa c'hai visto l'hai selezionato tramite Wikipedia iscriviti al canale sempre e comunque Forza Napoli fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti stiamo salendo con gli iscritti e con le visual grazie a tutti ciao Waiu Grazie a tutti